Uno stile di vita sedentario, secondo gli studi più recenti, accorcia la vita dai 3 ai 7 anni. La soluzione sta allora nelle 3S, stile di vita, salute e sport per tutti, per prevenire l'insorgenza di numerose malattie. E' questo il tema del convegno nazionale dell'Unione italiana, sport per tutti. 120 delegati da tutta Italia hanno scelto proprio Trento che occupa ormai stabilmente i vertici nelle classifiche sulla qualità della vita e delle politiche per il benessere e la salute dei cittadini.